Ben ritrovati a questo nuovo aggiornamento meteo. Come potete vedere dalla nostra grafica, venerdì l'anticiclone nordafricano, ovvero l'alta pressione, tornerà a proteggere il centro-sud della nostra penisola, mentre il nord sarà ancora una volta influenzato da queste correnti atlantiche. Infatti, se diamo uno sguardo alla nostra grafica delle temperature massime, possiamo osservare che avremo temperature più fresche sulle regioni settentrionali, più miti invece nel resto d'Italia, con punte che potranno arrivare anche ai 33-34 gradi. Ma adesso vediamo la previsione nel dettaglio. Ebbene, come potete vedere avremo il rischio di piogge sparse sulle nostre regioni settentrionali, contemporanei localizzati, rischio di qualche pioggia anche sul nord-ovest della Sardegna, con molte nuvole al centro-nord e le maggiori schierite soprattutto al sud. E questa è una previsione che ha un indice di affidabilità medio-alto, che si attesta tra il 70 e l'85 da nord a sud. Intanto, vi ricordo come sempre che per avere maggiori dettagli regione per regione, potete consultare il nostro sito web www.meteo.it oppure potete scaricare la nostra applicazione gratuita.